Che ore sono? Adesso sono le 17.36, mancano 29 km alla destinazione, Tor Vergata, abbiamo una proiezione del 52% di batteria che ci servirà per il ritorno e tutto bene, stiamo andando a una velocità di circa 95 km l'ora, modalità risparmio, sì, vorremmo tornare il più possibile senza problemi e ci aspetta l'anteprima di The Martian e ci dovrebbe essere, anzi ci sarà sicuramente anche Samantha Cristoforetti, ci vediamo dopo.